Milione di persone ieri mattina alla grande messa conclusiva, 350.000 partecipanti sabato sera alla festa delle testimonianze, 450.000 persone sulle strade tra venerdì, sabato e domenica a salutare il Papa. Non sono solo numeri utili per gli annuari e le statistiche, indicano l'entusiasmo e l'affetto che per tre giorni hanno circondato Benedetto XVI in visita a Milano per il settimo incontro mondiale delle famiglie. Sono stati tre giorni bellissimi, il Papa direi che lo abbiamo visto sereno, molto contento di questi giorni. Benedetto XVI ha concluso giornate intense di incontri di riflessione, di preghiera e di festa, cui hanno partecipato 6.900 delegati da tutto il mondo. Un evento reso possibile dal lavoro gratuito di 5.300 volontari, italiani e stranieri, che si è concluso con un triplice annuncio. Il prossimo incontro mondiale delle famiglie si terrà nel 2015 a Filadelfia, negli Stati Uniti. Intanto sorgerà a Nazareth un centro internazionale per la famiglia, iniziativa concreta che proseguirà nel tempo l'incontro milanese. Per decisione del Papa, infine, saranno devoluti alle popolazioni terremotate dell'Emilia 500.000 euro delle offerte a lui indirizzate. Ma del Family 2012 rimarrà soprattutto il commovente spettacolo del grande abbraccio al Papa, della gente comune, del popolo di Dio, di una Chiesa viva, che ha molto confortato Benedetto XVI. Ieri dopo pranzo il Papa diceva che è bello stare in mezzo alla Chiesa viva. La Chiesa è viva con la gente. Da questo punto di vista dovete rassegnarvi ad un dato di fatto, che l'opinione mediatica italiana non è l'opinione pubblica, signori carissimi. L'opinione pubblica ama il Papa, la gente ama il Papa e in particolare i milanesi hanno mostrato di amare questo Papa.